Ciao Sofia, ciao Hamish, vi volevo raccontare che cosa mi è successo l'altro giorno. Mi trovavo in un piccolo parco e a un certo punto mi sono accorto che su di un albero vicino alla mia macchina c'era un grosso merlo che cantava in un modo incredibile e non ho resistito alla tentazione di mettermi a fischiare pure io. E così ci siamo fatti per quasi un minuto una lunga chiacchierata. Ascoltate bene. Ascoltate bene. Ascoltate bene. Ascoltate bene. Grazie a tutti.